Adesso leggo delle poesie di Bruno Mancini, in un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppie aeree, badigli, avanza un uomo dal fondo, colonne reggono l'arco, passa guardiano, badigli, prende il suo posto di un'ora, colonne reggono travi, salda e cammina, silenzio, conta le lampade passando, pesta le colonne con forza, misura l'arco uscendo, in un carcere ammazzano un uomo.